Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Per chi non mi conosce, io sono Catalina Vi lascio il mio profilo di Instagram qua di lato E l'unica cosa che vi posso dire È che sarà un video diverso dai soliti Quindi, buon video! Perde olio! Perde bene! A tizio la pizza piace E ho detto che è molto facile Eh, ho giusto la tosta Io qua quanto ne metti io? Ascolta, io ho detto Bambolato, lo posso offrire un cocktail? Lei come a bordo? Tu sai che dire che Eh, bambolato, posso offrire un cocktail? Il tizio da Uriaco sarebbe Incapace di dire sopra da una persona Seriamente Perchè la gente non chiede i salti? Da non sono i salti Però vabbè, questo mi preoccupa pure a me Cioè, un minimo, almeno chiedere i salti Potresti cadere in qualche curva Dai, ma... È colpa mia Io sono lento, non sono più lento Violento? Io sono lento a... Tizio Ma te fai pure il mio rotolo lì Tranquillo Ma lo vedi agitato a sto ragazzo? Sì, sì Sei riuscito a creare un portarotolo proprio Cioè, hai capito? Cioè, riprendi un attimo Il mio nome è John Cena Tizio, ma io non ho capito Dai sei carico per andare a fermi il prossimo Ciao madre Bravo Tizio Qua gente è apposta No, per far tutta la corno io ferrei il motore Allora, cos'è successo? Abbiamo fatto una mancettina in pista Poi era una giornata un po' così così Non ho tanta voglia di girare E quindi è ben deciso di passare all'enduro Quindi fare una giornata di enduro nei boschi Perché lì vicino ci sono i boschi E niente, vi lascio all'avventura Tu sei Giordi Cardiolo, vero? Ciao Ciao Io con la pedalina invece Ah, stiamo facendo il duro Cool forse non ero da saltare non mori non salto più non 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 sei fermo sei più ampio fermati ok curva non mi regge più il minimo e ora? e ora? ma di là arriviamo alla stradina la dove? di là oh saltiamo sta rete e entriamo diretti in pista ti seguo no no perché? vai tu perché io finisco male no no Gatta, gatta No, non di là, tizzo, di là Gira tutto che ci passi Ci passi, ci passi Ti vedo nel tuo habitat naturale È divertente, però, por... Accendila Oh, come via Ok, la situazione è questa. Matteo! Matteo! Ma io sai come andrei. Sto cadendo dall'altra parte. Tizio! C'è un problema che c'è tutto il fil di ferro, l'unica secondo me... Aspetta, aiuto! Guarda che gomma! L'hai vista? Ti vengo ad aiutare! Oh ma te non puoi star lì così! E la butti giù e la fai strisciare giù! Aspetta, sennò è un gioco di frizione e ci salto subito! Ma che c***o! 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 C***o!